Il Teramo spaventa la Ternana dei record ma alla fine deve inchinarsi lasciando i tre punti ad una squadra che anche al Bonolis ha dimostrato tutto il suo potenziale. Finisce 2-4 per le fere ma i biancorossi escono a testa alta. Spettacolo e gol tutti concentrati nel secondo tempo. Massimo Paci è senza birrigea K, l'ASIC soprano Valentini di Matteo Minelli. Nel sistema di gioco 4-2-3-1 da opporre la Ternana, l'ex Bombagio agisce come trequartista anche se in fase offensiva va da supporto a Pinzauti. Due le assenze per Cristiano Lucarelli. All'infortunato Laverone si aggiunge lo squalificato Paghera. Diverse le novità in casa Umbra. In difesa Frascatore e Swager avvicendano Bammarella e Boben. Doppio cambio in mediana, Damianne e Salzano rilevano l'ex Proietti e Palumbo. Infine c'è il debutto in attacco dal primo minuto di Ferrante. Prima del match osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa del vice allenatore della Cavese Antonio Vanacore, arbitra cosso di Reggio Calabria. Prima frazione di gioco si diceva molto equilibrata da segnalare al diciottesimo il grandestro dal limite di Falletti, sfera alta di poco. Il Teramo però non sta a guardare e poco dopo la mezz'ora è pericoloso con Arrigoni che dal limite scocca un tiro che Giannarilli blocca. Con le immagini passiamo alla ripresa. A scatenare l'inferno al terzo minuto è Falletti che raccoglie dal limite una respinta della difesa. Conclusione al volo molto precisa. Lewandowski è battuto. Teramo a testa bassa senza immagini un contatto più che sospetto in area su Santoro. Il pareggio però è soltanto rinviato. Poco dopo lo stesso Santoro tira dai 25 metri un missile terra-aria che si inzacca nel 7. Una rete meravigliosa che merita di essere rivista. È un momento favorevole per i ragazzi di Paci che chiudono la Ternana nella propria metà campo. E così arriva il raddoppio. Conclusione di Bombaggi. Il portiere non trattiene. Tapin vincente di testa di Costa Ferrera. Gara ribaltata in un'amen ma non è finita. Di fronte c'è la qualità della capolista che quattro minuti dopo pareggia. Partipilo si libera in area e gonfia la rete. I ritmi non scendono. La Ternana viene premiata con il terzo gol alquanto rocambolesco. Rimpallo favorevole per Furlan che tocca per ultimo e beffa Lewandowski. Teramo alquanto sfortunato ma che spettacolo. Cinque gol in 17 minuti. Un vero record. La Ternana chiude il match al 28esimo. Falletti lanciato in campo aperto entra in area e da posizione un po' defilata fa secco Lewandowski con un tiro chirurgico. Nel finale il Teramo potrebbe accorciare e riaprire il match con il subentrato Mungo. Il suo tentativo di voler finisce di poco a lato. Al triplice fischio applausi per tutti. Il Teramo ha perso contro la più forte del girone ma ha poco da rimproverarsi. Domenica alle 17.30 di nuovo al Bonolis contro la Virtus Francavilla.